E' stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione. Lo stalker, 67enne residente a Castellabate, la pena emanata dal Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di atti persecutori e lesioni personali, è dovuta a fatti risalenti a sei anni fa. Lo stalker, originario di Castellabate, trasferitosi di nuovo nel paese cilentano dopo essere stato fin da giovani negli Stati Uniti, era il vicino di casa delle vittime delle azioni di stalking. Dopo aver conosciuto la coppia di vicini, si era innamorato della donna, più giovane di lui di svariati anni, ed era stato respinto in modo stupito e deciso dalla vicina. I problemi per la donna e per la sua famiglia sono cominciati in quel momento, con pedinamenti, telefonate a tutte le ore del giorno ed anche con un'aggressione che ha causato serie lesioni sia alla donna che al marito. Inoltre, lo stalker avrebbe importunato anche la figlia minorenne dei due coniugi, che per tornare ad essere tranquilli e felici si trasferirono da Castellabate ad un paese vicino. Il 67enne, che era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento ed in seguito agli arresti domiciliari, oltre alla pena di reclusione, ora dovrà anche risarcire tutti i componenti familiari per i danni patrimoniali e non patrimoniali, la cui somma verrà quantificata dal giudice civile.